L'onorevole Perilli ha presentato la sua candidatura al Parlamento Europeo alla presenza del senatore Francesco Pivilacqua e del coordinatore provinciale Valerio Grillo nonché dell'eurodeputato Dominico Antonio Basile. Non ha mancato l'onorevole Perilli. A questo incontro non ha l'onorevole Perilli, il candidato alla sottostruzione sud del BPM. Illustrare ciò che ha fatto nel quinquennio a Bruxelles senza rispermiare critiche alla regione Calabria la quale ha poco realizzato e soprattutto ha poco speso i fondi europei. Nell'intervento di Franco Pivilacqua non sono mancate e stoccate al comune di Vipo Valenza per il suo immobilismo mentre Mimmo Basile si è soffermato soprattutto sulla latitanza dell'amministrazione provinciale nonché sull'immobilismo e sulla poca realizzazione di fatti concreti da parte della regione.